Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi vi porteremo in un viaggio affascinante nel sottosuolo, dove scopriremo i segreti nascosti delle città sotterranee più incredibili del mondo. Se siete appassionati di storia, misteri e avventure, allora questo video è fatto apposta per voi. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i nostri prossimi video. Iniziamo! La nostra prima tappa ci porta in Turchia, nella regione della Cappadocia, famosa per le sue incredibili città sotterranee. Questi complessi labirintici furono scavati nella roccia vulcanica migliaia di anni fa e potevano ospitare fino a 20.000 persone. Immaginate intere comunità che vivevano, lavoravano e pregavano sottoterra. Scopriamo insieme le meraviglie di Derinkuyu e Caimacli, due delle città sotterranee più famose della Cappadocia. Derinkuyu è una delle città sotterranee più impressionanti della Cappadocia, con i suoi 18 piani sotterranei che si estendono fino a circa 60 metri di profondità. Gli archeologi ritengono che sia stata costruita intorno all'Ottocento Anticristo e utilizzata fino al periodo bizantino. La città era dotata di tutto il necessario per sopravvivere. Pozzi d'acqua, magazzini per il cibo, stalle, cucine, scuole e persino chiese. I sistemi di ventilazione e le porte di pietra rotolanti, che potevano essere chiuse dall'interno, dimostrano l'ingegnosità degli antichi costruttori. Caimacli, a pochi chilometri da Derinkuyu, è altrettanto affascinante. Questa città sotterranea si estende su otto livelli, quattro dei quali sono aperti al pubblico. I suoi stretti corridoi conducono a stanze spaziose che fungevano da abitazioni, laboratori e cantine. Si pensa che Caimacli fosse collegata a Derinkuyu tramite una serie di tunnel, creando un vasto complesso sotterraneo che offriva rifugio e protezione durante le invasioni. Ma perché queste persone decisero di vivere sottoterra? Gli storici suggeriscono che le città sotterranee furono costruite per difendersi dalle incursioni nemiche e dalle persecuzioni religiose. Le comunità potevano vivere nascoste per mesi, se necessario, grazie alle riserve di cibo e acqua. Una testimonianza straordinaria della capacità umana di adattarsi e sopravvivere. Da un lato all'altro del mondo, ci spostiamo a Edimburgo, in Scozia. Sotto le strade di questa affascinante città si nasconde un mondo dimenticato, le catacombe di Edimburgo. Questi passaggi sotterranei, risalenti al XVII secolo, raccontano storie di criminali, contrabbandieri e cittadini comuni che cercavano rifugio durante le pestilenze. Le catacombe di Edimburgo, conosciute anche come Volts, furono costruite nel 1788 sotto il South Bridge, uno dei principali viadotti della città. Originariamente utilizzate come magazzini, officine e taverne, le catacombe divennero ben presto rifugio per i più disperati. Poveri, criminali e contrabbandieri che sfruttavano questi spazi nascosti per le loro attività illecite. La vita nelle catacombe era tutt'altro che facile. Le condizioni igieniche erano pessime, l'umidità era alta e la luce del sole non penetrava mai. Questo ambiente insalubre contribuiva alla diffusione di malattie, rendendo le catacombe un luogo pericoloso e malfamato. Tuttavia, le leggende più oscure parlano di omicidi e rituali occulti, aggiungendo un'aura di mistero a questi sotterranei già spaventosi. Oggi, le catacombe di Edimburgo sono una popolare attrazione turistica, soprattutto per gialli appassionati di storie di fantasmi. Numerosi visitatori e guide giurano di aver visto apparizioni spettrali e di aver sentito strani rumori. Che siate scettici o credenti, una visita alle catacombe di Edimburgo vi lascerà sicuramente una sensazione di inquietudine e curiosità. Infine, voliamo in Cina, dove sotto la frenetica città di Pechino si estende un vasto sistema di tunnel conosciuto come il Grande Rifugio. Costruito durante la Guerra Fredda negli anni Sessanta, questo rifugio poteva ospitare milioni di persone in caso di attacco nucleare. Mao Zedong ordinò la costruzione di questo complesso sotterraneo per proteggere la popolazione e i dirigenti cinesi dalle minacce esterne. Il Grande Rifugio di Pechino è una rete impressionante di tunnel che si estende per oltre 85 chilometri. Al suo interno si trovavano scuole, ospedali, teatri, fabbriche e persino allevamenti di maiali. Ogni dettaglio era studiato per permettere a milioni di persone di vivere sottoterra per mesi, se non anni. La costruzione del rifugio richiese uno sforzo enorme, con migliaia di operai che lavorarono incessantemente per anni. Il progetto era così segreto che molte delle entrate ai tunnel erano camuffate da edifici comuni, come negozi o scuole. Nonostante l'imponente opera, il Grande Rifugio non fu mai utilizzato per il suo scopo originale e oggi alcuni dei tunnel sono stati trasformati in attrazioni turistiche. Oltre alla sua funzione pratica, il Grande Rifugio rappresenta un monumento storico che ci ricorda i timori e le tensioni della Guerra Fredda. Una visita a questi tunnel ci offre una prospettiva unica sulla storia della Cina e sul modo in cui il paese si preparava per affrontare le minacce del mondo esterno. E con questo concludiamo il nostro viaggio nel cuore delle città sotterranee più affascinanti del mondo. Speriamo che abbiate trovato questo video interessante e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Se vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo con i vostri amici. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi incredibili viaggi. Alla prossima!